Memorizzazione minuziosa della sua fotografia Il periodo più faticoso della meditazione su Basile fu la memorizzazione minuziosa della sua fotografia. Distessa sul letto, con il busto poggiato sul gomito sinistro, Egle fissava le fattezze del cugino malato per raggiungerne l'inconscio col suo pensiero concentrato. Però attenzione, la sua concentrazione non aveva nulla a che fare con il suo fine ultimo, che era la preghiera. Ogni volta che Egle si impastava nel senso della vista, nell'intelletto, nella mente, stagnava nella concentrazione, che soggioceva all'attività sensoriale. Il tragitto intimo di Egle era prima la concentrazione, poi la meditazione e infine la contemplazione, da cui la sua preghiera poteva finalmente prendere il volo. Di tanto in tanto, il rumore della strada le arrivava come un'esplosione, ma diveniva sempre più lontano. A mano a mano Egle spostava la sua consapevolezza verso l'alto di se stessa e il rumore si attutiva. Ma, con i soli occhi della mente, Egle non riusciva a mettere a fuoco le fattezze del malato. Anche se aveva le sue foto e Vasile era suo cugino, lo aveva dimenticato per molto tempo. Solo al terzo giorno di concentrazione Egle sentì di possedere per intero l'immagine di Vasile e di poterla proiettare nitidamente sullo schermo della mente. Chiuse gli occhi e vide una luce di un colore giallo-dorato, che poi diventò di un bianco liquido, da cui l'immagine di Vasile trasparì lentamente. Immaginò di soffiare su quel volto tutta l'energia che la sua fede nell'influenza a distanza le elargiva. Ripercorse con la mente le fattezze di Vasile e si estenuò. Nel rendere le fattezze il più possibile luminose, nel trasfondere la parte sana di sé nel cugino malato, la mente, l'io di Egle, barcollò e quasi si estinse. A quella sessione di influenza a distanza ne seguirono molte altre, in cui il sentire, non l'io di Egle, si beò di quelle trasfusioni di energia. Il benessere si rinnovava e aumentava ogni volta che lei si trasfondeva nell'immagine di Vasile. Accadeva quando Egle otteneva un maggiore distacco dalla sua azione, quando non era più lei che agiva, ma lei diventava l'azione stessa. Allora l'immagine di Vasile era frequentata sempre più intensamente, non più da Egle, ma da un essere di cui lei faceva parte e che comprendeva sia lei e sia Vasile. L'immagine del cugino le appariva bonificata da qualcosa che non apparteneva più né a lui né a lei, ma era entrambi. Se era più cosciente della sua azione, che non era più sua, sentiva che non doveva proteggerla, ma che la sua azione la doveva offrire, offrire, offrire. Al termine di una sessione di meditazione preghiera, Egle si chiese «Perché sento che la mia azione la devo offrire e non proteggere?» La risposta le arrivò nella meditazione successiva «Perché, anche se la mia azione non è più mia, rimane una parzialità e anche se mi stupisco del benessere che infondo all'immagine di Vasile, non devo accontentarmi di questo stupore. Nello stesso tempo non devo esigere che questo stupore si ripeta. Devo rimanere slegata da Vasile, senza nessuna condizione. Semplicemente devo stupirmi di nuovo ogni volta che la mia meditazione preghiera mi porta un passo più in là». Ogni passo nell'oltre era progressivo ed Egle intuiva che, se voleva fare un altro passo nella guarigione da infondere a Vasile, non doveva fare suo il potere di guarigione. Questa rinuncia a se stessa, alla sua personalità, alla sua mente, al suo io, era l'unica possibilità per sprofondare definitivamente nel potere. Il viaggio nell'inconscio di Vasile durava in genere mezz'ora. A mano a mano che il viaggio procedeva, Egle si sentiva sempre meno stanca e il suo pensiero diventava sempre più veloce. Tornata dal lavoro, dopo un'ora, Egle entrava in meditazione. Resse questo ritmo per sei mesi. Alla fine della settimana telefonava alla zia e chiedeva notizie sulla salute di Vasile e sapeva che il cugino stava meglio. La zia non si spiegava perché Vasile chiedeva spesso di Egle. La loro famiglia era vasta e dispersa. I giovani erano all'estero in cerca di lavoro e i loro rapporti erano rari e inquinati dagli interessi. Egle all'inizio non si ricordava di avere un cugino che si chiamava Vasile. Eppure in quei mesi di meditazione si era tanto unita all'oggetto della sua preghiera che riuscì a fermare la malattia di Vasile. Una sera, mentre parlava al telefono con la zia, girava per la casa, giunse nella stanza da letto e tolse dall'armaggio il tagliere che avrebbe messo la mattina. Era la divisa di donna in carriera che continuava a usare anche in biblioteca dove l'avevano relegata, ma non se ne cruciava. Aveva iniziato una nuova vita e questo le suggeriva un forte sapore di sfida. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.